Ciao a tutti, eccoci con un nuovo video. Un nuovo video che non vuole essere proprio un video di approfondimento, ma un video di considerazioni. Infatti sarà un video abbastanza breve rispetto agli altri. Queste considerazioni nascono più che altro da una lettura che ho concluso in questi giorni di un libro, quindi di un lavoro, di due esimi professori, uno di questi citati, come sempre, il più delle volte nei miei vari contenuti, e che da poco ovviamente andremo a vedere. Considerazioni che sono comunque frutto anche dei miei lavori, quindi di ciò che ho prodotto in tutti questi anni, in merito soprattutto al mio primissimo libro, Il Cristianesimo, un'invenzione di San Paolo, in cui ho sempre, ecco, affermato che è stato Paolo, colui che ha effettivamente dato il via, che ha acceso quella miccia che ha portato poi al Cristianesimo, distaccandosi dal cosiddetto Gesuanesimo. Quindi Gesù non ha mai voluto fondare effettivamente un'ora di Gione, ma è sempre rimasto ben radicato nel recinto dell'ebraismo che l'ha formato e insieme a lui ovviamente anche i suoi discepoli, mentre Paolo è un qualcosa di differente, nato ebreo, formato come ebreo, ma poi a un certo punto della sua vita ha preso in considerazione di distaccarsi da quell'ebraicità che l'aveva formato, che l'aveva dato ai Natali, abbracciando invece una religiosità delle genti, ecco, diciamo così. E in funzione di questo e in merito a questo vi invito a vedere il video di risposta che ho fatto al professor Mauro Pesce proprio parlando della ebraicità di Paolo. E partendo proprio dal professor Mauro Pesce, ovviamente parlo di lui perché, non perché mi muovi video o altro, ma perché è fonte di ispirazione e anche di considerazioni, molte di queste le faremo anche oggi, è appunto il libro, è questo qui, scritto dalla professoressa Adriana Destro e dal professor Mauro Pesce, il libro è Il Battista e Gesù, due movimenti giudaici nel tempo della crisi della Carrocci Editore. Un libro che ho letteralmente divorato in pochissimi giorni, un libro veramente molto interessante, pregno di contenuti, nonostante, e per chi mi segue sui social conosce effettivamente tutte le considerazioni che ho fatto del libro, un libro che ecco, forse non osa ulteriormente, cioè non fa quel passì in più per considerare effettivamente la carica politica che Il Battista e Gesù avevano al tempo. La forza di questo libro, e poi ovviamente andiamo alle considerazioni che dobbiamo fare in questo brevissimo video, è l'analisi antropologica, quindi che ci fa comprendere esattamente il contesto del tempo, e voi sapete benissimo come io consideri estremamente importante la conoscenza del contesto, quindi la conoscenza del contesto ci fa effettivamente comprendere quelle che erano le motivazioni reali, politiche soprattutto, che fecero muovere, scusate, Il Battista e Gesù. Quindi un libro che vi consiglio, oltre ovviamente ai miei libri. Come voi ben sapete, proprio partendo dal cristianesimo di dimensioni di San Paolo, ho sempre affermato, come vi ho detto anche prima, che Paolo è stato colui che ha dato la miccia, quindi che ha acceso la miccia di quel cristianesimo che si è distaccato sempre di più dal Gesù anesimo. E chi mi segue sa benissimo che molti autori affermano, autori moderni, affermano che la tesi di un Paolo fondatore, quando dico fondatore ecco le virgolette sono dovute, fondatore del cristianesimo, è una tesi oramai superata, vetusta, vecchia. Ma anche nel video sull'ebracità di Paolo abbiamo visto invece che fonti alla mano, ma anche citando altri autori, ma soprattutto fonti alla mano, non sembra essere una tesi così peregrina. E quindi ho sempre affermato che da una parte vi sono i gesuani, quindi i seguaci di Gesù, fermi al recinto dell'ebraismo, e dall'altra parte invece i cristiani, che hanno completamente abbandonato quell'ebraismo. Cristiani, cioè quindi convertiti gentili a questo nuovo movimento, pur non abbracciando le pratiche giudaiche, erano appoggiati da Paolo. Prima di entrare nel merito, cioè quindi di entrare poi effettivamente nella ciccia vera dell'argomento, vediamo esattamente cosa scrivono la dottoressa Destro e il professor Pesce in merito a questa cosa, perché nel primo capitolo di questo libro, in cui si descrivono i vari gruppi cristiani nei primi due secoli, si fa menzione di Giustino Martire, quindi di Giustino il filosofo, ovviamente per chi non ha visto la puntata di Giustino il filosofo, la puntata di in principio relativa, vi invito a recuperarla, perché è davvero molto interessante. La trovate sul mio canale YouTube Francesco Esposito. E citando il dialogo con Trifone di Giustino, quindi per chi mi segue sa di cosa sto parlando, si fa quindi questa considerazione. Nel dialogo con Trifone la scena iniziale è collocata proprio nella piazza principale di una città. Giustino ci fa capire che si possono distinguere molti gruppi fra i seguaci di Gesù. Ci sono anzitutto dei giudei che credono in Cristo, ma osservano la legge di Mosè e accettano di convivere con i cristiani e con i fedeli. Qui Giustino definisce i cristiani cristianoi, quindi dal greco cristianoi. E chi sono effettivamente questi cristiani? Andiamo a vedere. Ci sono poi dei giudei che credono in Cristo, osservano la legge di Mosè, ma non vogliono avere comunione con i cristianoi, oppure pretenderebbero che i cristianoi osservano la legge di Mosè. Quindi, senza farla troppo lunga, ci sono, dice Giustino, dei giudei convertiti a Cristo che accettano di convivere con i cristiani e poi dei giudei convertiti a Cristo che non vogliono assolutamente associarsi ai cristiani, a meno che i cristiani non decidano di abbracciare le pratiche giudaiche. E il professor Pesce continua, così come continua ecco Giustino, dicendo così anche ci sono dei cristiani, alcuni di questi accettano di convivere con i giudei convertiti, mentre altri cristiani non vogliono convivere con i giudei convertiti. Quindi vi erano queste anime contrapposte. Il professor Pesce dice tanti gruppi seguaci di Gesù, ma qua si ravvisa comunque un dualismo. Da una parte i giudei convertiti, dall'altra invece i cristiani. Questa cosa ricorda molto, per esempio, il famoso incidente di Antiochia, su cui torneremo tra poco, dove Paolo costringe Pietro a prendere il cibo, quindi a banchettare insieme ai gentili convertiti. Cosa che poi viene rifiutate invece da coloro che vengono da Giacomo e su cui Pietro ha un qualche timore, si alza dal posto timoroso e Paolo lo redarguisce. Ma comunque, tornando al dialogo di Giustino, abbiamo appena visto infatti nel dialogo di Giustino due poli opposti, continua a scrivere il professor Pesce. Da un lato i giudei che non vogliono avere a che fare con i seguaci di Gesù, in questo caso con i cristiani. All'estremo opposto i non giudei, i non giudei che non vogliono né parlare né mangiare con i giudei seguaci di Gesù. Giustino definisce cristianoi, quindi cristiani, questi seguaci non giudei. E' importante notare che Giustino chiama con questo appellativo solo una parte dei seguaci di Gesù, quelli che non sono giudei. Per i seguaci giudei non ha un nome. E questo potrebbe significare che essi sono conosciuti solo come giudei. Certo, credono in Gesù come Messia, ma ciò non attenua la loro appartenenza giudaica, anzi la conferma. Sempre di più il termine cristianoi tende a definire solo i seguaci di Gesù che non sono giudei. Per adesso arriviamoci qui. Quindi dice il professor Pesce citando Giustino, quindi siamo alla metà del secondo secolo, a circa un secolo dopo in cui Paolo scriveva. Giustino dice ci sono effettivamente i cristiani e questi cristiani però sono soltanto quei gentili convertiti che hanno abbracciato la fede in Cristo ma che non hanno abbracciato invece la fede giudaica. E allora sorge spontanea una domanda. Ma non c'era questa continuità fra i gesuani e i cristiani, fra i gesuani e Paolo in questo caso? Così come ci descrivono per esempio gli atti degli apostoli che vuole essere uno scritto irenico, quindi a voler conciliare queste anime contrapposte. Ma quello che dice ci dice anche la dottrina, non c'era questa continuità dottrinale fra le pratiche giudaiche e poi quelle cristiane, così come voleva Gesù, così come volevano anche gli apostoli, ma Giustino non ci sta testimoniando assolutamente questo e ce lo conferma anche il professor Pesce. Il professor Pesce che ecco, voglio ricordare, è fra quegli autori accademici che non si trova assolutamente d'accordo con la mia posizione secondo cui Paolo è stato ecco l'iniziatore del cristianessimo. Però intanto ecco qui abbiamo una testimonianza differente. Ben presto, poi continua il professor Pesce, ben presto la stragrande maggioranza dei gruppi diseguaci di Gesù, soprattutto nella parte occidentale dell'impero romano, sarà composta totalmente da non giudei. Questi cristiani, non essendo giudei, non condividono le aspirazioni etniche del popolo giudaico. Quindi adesso vediamo effettivamente quali sono le differenze fra i cristiani e potremmo dire i gesuani, o quelli che potremmo anche definire giudeo-cristiani, ok? Quindi non hanno le stesse aspirazioni etniche dei giudei. Ad esempio, non hanno alcun interesse alla liberazione dei giudei dalla sottomissione ai gentili nella terra di Israele. Non concepiscono il regno di Dio finale della storia come avvento del regno di Israele e non hanno alcun desiderio di rispettare uno stile di vita giudaico che non conoscono affatto, oppure quando lo conoscono probabilmente lo disprezzano. Quindi è interessante notare come, così come conferma il professor Pesce ovviamente, come questi giudei convertiti a Cristo avevano comunque ancora un'idea, una sorta di retaggio antico, e cioè che aspettavano ancora un messia liberatore per il loro popolo. Quindi non c'è un aspetto universalistico. Come scrive per esempio il teologo Rudolf Bultmann, nel suo libro dedicato a Gesù, anche Gesù stesso, e tra poco lo vedremo, non aveva aspirazioni universaliste, aspirazioni umanistiche, ma aspirazioni legate al solo popolo giudaico, per la liberazione del popolo giudaico, un regno di Dio che era un regno di Dio che era l'instaurazione del regno di Israele, quindi niente di spirituale. Quindi vediamo effettivamente una contrapposizione netta fra Gesùani o Giudei convertiti al Cristo, in questo caso, e Cristiani. Dove c'è questa continuità? La rottura è evidente, non vi è continuità. Ma ancora, la divisione fondamentale per Gesù, attenzione, la divisione fondamentale per Gesù era quella tra Giudei e non Giudei, e questa divisione rimaneva fondamentale per i Giudei. Quindi si sottolinea il carattere fortemente ebraico di Gesù e il suo dualismo. Per Gesù esistevano i Giudei e i non Giudei, non vi era una visione universalistica del mondo. Per Gesù esistevano soltanto i Giudei e quelli dovevano essere salvati, e chi si contrapponeva ai Giudei, i cosiddetti non Giudei. Questa divisione, per i seguaci di Gesù, che però non sono Giudei, i cosiddetti Cristiani, a un certo punto non è più rilevante, mentre diventa cruciale quella tra Cristiani e Gentili. La religione di Gesù era la religione dei Giudei, la religione dei Cristiani diventa la religione di una parte dei Gentili, appartenenti ad altre genti. E come veniva definito Paolo? Anche negli Apostoli, anche nelle sue lettere, gli stesso si definiva l'Apostolo delle genti, non l'Apostolo dei Giudei, non l'Apostolo degli Ebrei, ma l'Apostolo delle genti. E abbiamo visto invece che per i Giudei questa visione delle genti era inconcepibile. Perché? Perché per i Giudei vi era una visione etnica, specifica, di classe, potremmo anche dire, legata al loro destino, al destino in quanto popolo e in quanto terra. Quindi non una visione delle genti, ma una visione di popolo, cioè del popolo di Israele. La questione del destino del popolo giudaico, ecco il punto a cui voleva arrivare, la questione del destino del popolo giudaico, che era il problema centrale di Gesù, diventa del tutto inessenziale o molto marginale. Dal terzo secolo in poi il problema è oramai un altro, quello del destino della Chiesa nella società del tempo. Giudei e giudaismo diventeranno qualcosa di estraneo per i Cristiani e le Chiese. Il Messia come liberatore del popolo, attenzione questo è fondamentale, il Messia come liberatore del popolo giudaico è un concetto estraneo alla cultura dei Cristiani. La parola Cristo, che originariamente significava Messia, ha ormai un significato non giudaico, è quasi un secondo nome di Gesù. E questo è molto interessante, la trasformazione anche del concetto di Messia per i Cristiani, che non è più il liberatore del popolo di Israele, ma è un qualcosa di completamente diverso, è scaduto quasi a secondo nome di Gesù. Come lo stesso Paolo sembra proprio utilizzare Gesù Cristo quindi come secondo nome, non più come Messia liberatore. Quindi anche il concetto, la visione cristologica, perché molte volte si dice sì, ma vi erano le contrapposizioni fra Paolo e Gesùani, ma erano più legati a delle norme specifiche giudaiche, neanche alla visione del Cristo. Ma qua invece vediamo che la visione cristologica è completamente opposta. Per i Cristiani il Cristo è scaduto a secondo nome, per i Gesùani o comunque per quei credenti in Cristo radicati ancora nel giudaismo, non nel giudaesimo, il Cristo è sempre rimasto il liberatore del popolo di Israele perché loro stessi ancora attendevano la liberazione della loro terra dominata dai Romani. E quindi c'è adesso l'ulteriore passaggio, e cioè esattamente poi da dove deriva il concetto di cristiano stesso o di Cristo. E ciò dice sempre Giustino, ovviamente grazie al professor Mauro Pesce, citando l'apologia di Giustino, le due apologie. Giustino ad esempio spiega la parola Christos con la parola greca Krestos. Chi ha sentito per esempio qualcosa su Tacito, Svetonio, questa parola di Krestianoio, Krestos, sa di cosa sta parlando ai tempi di Claudio, gli ebrei vengono cacciati da Roma perché un sobbillatore di nome Krestos, si ispiravano a questo sobbillatore di nome Krestos. E Tertuliano dice che quel Krestos era forse proprio il Cristo, cioè Gesù. Quindi attorno al 50 gli ebrei vengono cacciati da Roma perché si ispirano a questo sobbillatore politico di nome Krestos, che vuol dire buono, dice Giustino nella sua apologia. Gesù è l'uomo buono per eccellenza. Il titolo figlio dell'uomo, così importante per il libro di Daniele, il primo libro di Enoch, è così distintivo per Gesù, ha perso ogni significato. Quindi ogni ebraicità vera ha perso il significato. Lo stesso concetto di Krestos, Krestos diventa Krestos. Alcuni linguisti l'hanno tradotto come una sorta di fenomeno linguistico, lo iotacismo, c'è quindi una sorta di contrazione da Krestos a Krestos e così via. Ma effettivamente forse Giustino, attraverso la sua prima reinterpretazione cristiana, ha visto che era importante svuotare di tutto il significato forse politico della parola Krestos, associare alla parola Krestos, quindi uomo buono. Quindi Gesù non più il Krestos politico, ma il Krestos uomo buono. Quindi questa evoluzione netta, i gesuani che avevano una figura, un'ideazione politica, un'attesa politica messianica per la liberazione della loro terra, ad arrivare poi a svuotare quel concetto di Cristo a secondo nome e poi associarli invece a un altro significato, una parola che ha un'assonanza in qualche modo con Cristo, c'è questo Krestos, cioè uomo buono. Gesù da uomo politico a uomo buono. Non dimentichiamoci anche in questo caso ciò che abbiamo per esempio citato in molti lavori, ma anche in molti video, per esempio ciò che scriveva Martin Engel nel suo libro Il figlio di Dio, per concludere ovviamente questa piccola considerazione che stiamo facendo. Citando autori come appunto il Bultman, come il Busset, che più volte abbiamo citato, con il Curious Christos, ecco per chi mi segue sai di cosa sto parlando, pure Mueller per quanto riguardava ecco la visione ellenistica di Paolo, ecco Martin Engel scrive questo ed è secondo me rivelatorio. Si dovrebbe concludere che pochi anni dopo la morte di Gesù si sia attuata, sotto la guida spirituale di giudeo-cristiani come Paolo, un tempo scrive Fariseo, una accentuata ellenizzazione, o meglio una paganizzazione sincretista del proto-cristianessimo. Quando si parla del proto-cristianessimo si tende appunto quello che c'era prima del cristianessimo, quindi il gesuanessimo. Quindi secondo Engel Paolo ha portato a accentuare l'ellenizzazione e a quindi inserire elementi pagani all'interno di quel giudaismo gesuano, ok? E ciò sarebbe avvenuto o nella Palestina stessa o nella vicina Siria come a Damasco oppure ad Antiochia. Cosa dico sempre? Antiochia, come scrive per esempio nel capitolo 11 degli Atti, dove per la prima volta ad Antiochia vengono chiamati i cristiani, i gentili convertiti da Paolo, ecco sembra proprio che Martin Engel confermi questo, e c'è che Antiochia sembra forse essere un vero e proprio centro cristiano, attenzione non gesuano ma cristiano. Ma vediamo come conclude. È chiaro che questa evoluzione, storicamente davvero abnorme, si porrebbe in contrasto con l'annuncio di Gesù in maniera radicale e incompatibile. Ci si dovrebbe in fondo decidere fra Gesù e Paolo. Ed è una cosa che io dico sempre. Qualora dovesse essere vera, quindi sottolineo sempre la natura ipotetica di quello che sto dicendo. Ma qualora dovesse essere effettivamente vera questa ricostruzione, quindi di un Paolo che ha davvero acceso la miccia a questo cristianesimo, allora ci troveremmo effettivamente in una situazione abnorme. Ma bisognerebbe in questo caso decidere, ma sembra proprio che, come conferma il professor Pesce, Giustino sta facendo proprio questo, vi è un dualismo specifico fra giudei convertiti in Cristo e non giudei convertiti in Cristo. Quindi, da una parte i Gesuani, dall'altra i Cristiani o i Paolinisti, potremmo dire anche così, ebbene, bisognerebbe effettivamente decidere, scusate, fra Gesù e Paolo. Ed è una cosa che forse già al tempo di Giustino stava accadendo. Chi volete effettivamente seguire fino in fondo? Quelle pratiche giudaiche a cui si rifanno i Gesuani, oppure quelle pratiche elleniste, pagane, gentili, ecco, delle genti, a cui Paolo invece si è rifatto, e a cui si rifanno quindi i Cristianoi, i Cristiani, o in questo caso i Crestianoi, cioè gli uomini buoni, quindi non più i messianisti, ma gli uomini buoni, perché al tempo di Giustino forse ancora definirli messianisti era forse pericoloso, vista la fine delle guerre giudaiche, della terza guerra giudaica con Simon Barcochba. Quindi queste sono le considerazioni che volevo fare, diciamo, ecco, considerazioni che spero vi porteranno a pensare, a fare delle vostre personali considerazioni in merito. E volevo concludere dicendo, effettivamente, quest'ipotesi, perché continuo ancora a definire un'ipotesi, è effettivamente così peregrina? Cioè perché non si fa quel passo successivo? E cominciare quindi a soltanto prendere in considerazione che forse Paolo è stato, o ha avuto quel peso effettivo nella spaccatura fra Gesuani e futuri Cristiani? Sarà il tempo a dircelo, staremo a vedere. Io ovviamente vi ringrazio per questi brevissimi 20-25 minuti passati insieme, vi ricordo come sempre i soliti canali, Esposito Francesco Scrittore per Facebook, Francesco Esposito per YouTube, vi ricordo come al solito i miei libri, Prima del Cristianesimo, Il Cristianesimo, Un'invenzione di San Paolo, Il Cristi Legittimo e dei Semidei. E niente, ci vediamo quindi al prossimo video, grazie ancora per avermi seguito fino a qui. Ciao a tutti!